Voglio subito chiarire che esistono due tipi di sessioni di ipnosi regressiva. La prima è l'ipnosi regressiva ad persona. La sessione ad persona è una sessione che serve per andare a ricercare le cause di un problema personale della persona interessata e quindi poi cercare di risolverlo in ambiente ipnotico. Il secondo tipo di sessione di ipnosi regressiva è la sessione cosiddetta investigativa o d'indagine. In realtà non esiste la sessione di ipnosi investigativa. Quello che esiste è un ciclo di investigazione con sessioni di ipnosi regressiva. Non possiamo prendere per buona l'informazione che ci arriva da una sessione di ipnosi regressiva. Perché l'informazione che noi otteniamo è altamente inquinata. L'informazione è alterata da diversi fattori. L'informazione parte da un punto X e comincia a viaggiare fino alla mente della persona in ipnosi. Durante il suo viaggio questa informazione viene sporcata attraversa dimensioni, attraversa frequenze, attraversa intelligenze, intenzioni, fino ad arrivare poi alla mente della persona in stato di coscienza alterata o ipnotico. Questa persona poi deve interpretare questa informazione attraverso la sua struttura mentale e poi deve esprimerla verbalmente, che è già un altro limite, è già un altro filtro molto potente quello del verbo. Non si riesce esattamente a esprimere verbalmente tutto quello che si è sentito, visualizzato o capito. Per cui, quando si cerca di investigare su qualcosa o su qualcuno in ipnosi regressiva, bisogna utilizzare un metodo abbastanza complesso. Per fare investigazione con ipnosi regressiva bisogna preparare innanzitutto un ciclo di investigazione. Mi spiego. Intanto, nelle coppie di lavoro che vengono scelte, la persona che entra in ipnosi non deve conoscere l'argomento trattato. Questo ci permette di ridurre la contaminazione dell'informazione da parte della mente razionale di chi sta in ipnosi. Tutti gli operatori hanno lo stesso protocollo di domande da chiedere. Quindi tutte le persone in ipnosi risponderanno alle stesse domande. Le sessioni di ipnosi regressiva verranno poi pubblicate solamente quando tutte le coppie di lavoro avranno finito, eseguito la loro sessione di ipnosi. In teoria, le risposte che le persone in ipnosi dovrebbero dare dovrebbero essere più o meno simili. Non uguali, ma almeno simili. In realtà, si vedrà che non è così. Le risposte possono essere anche diametralmente opposte nel loro contenuto e significato. Questo non vuol dire che le informazioni ricevute siano false. Assolutamente no. Solamente che sono sporche. Sono contaminate. Chiuso un ciclo di investigazione, si passa alla fase del filtraggio. Si devono filtrare tutte queste risposte, tutte queste informazioni e bisogna filtrare tutte le informazioni che sono in comune. Queste informazioni in comune sono pochissime rispetto alla grande quantità di informazioni ottenute. Lo spiego con un esempio. Supponiamo di andare al fiume per cercare oro. Noi ce ne andiamo con i nostri grandi filtri, andiamo a sollevare la sabbia dal letto del fiume e la cominciamo a filtrare. Dobbiamo far passare dal filtro chili e chili e chili e chili di sabbia per ricevere solamente pochi grammi di oro. Quelli che rimangono sul filtro e non vanno giù. Ecco, questi granelli d'oro sono le informazioni che valgono. Sono le informazioni affidabili che dobbiamo estrarre da tutta questa grande marea di informazioni che ci arrivano dalle sessioni di ipnosi regressiva. Per poter avere un quadro affidabile di quell'indagine in ipnosi dovremmo creare centinaia se non migliaia di sessioni di ipnosi. E come capirete è veramente complicato poter organizzare qualcosa del genere. Quello che noi nel calogero Grifasi Investigations realizziamo sono decine di sessioni di ipnosi per ogni singolo argomento. Ma ci serve più che altro per far capire, ci serve per educare il pubblico a non credere tutto quello che si dice da una sessione di ipnosi a bocca aperta. Come se fosse orocolato. Supponiamo di andare a vivere in un paese diverso dove si parla una lingua diversa. All'inizio non capiremo niente di quello che ci dicono e noi non potremmo neanche comunicare. Sì, potremmo anche studiarlo, quindi far passare tutte le informazioni dalla parte razionale della nostra mente. Però, nonostante facciamo questo, all'inizio non capiremmo niente perché la parte inconscia della nostra mente non ha preso né le parole, né i suoni, ma neanche tutte le regole grammaticali e sintattiche. Però, con il tempo, ascoltando le persone parlare quella lingua e cercando di interagire per quanto si può, la mente comincia ad apprendere, comincia a filtrare tutte quelle conversazioni che non si sono capite ma che piano piano si cominciano a comprendere sempre di più, finché a un certo punto si comincia a comprendere inconsciamente e sempre di più, sempre di più fino ad arrivare a comprendere qualsiasi cosa e a poter, a propria volta, parlare, esprimersi. Ecco, questo è quello che succede alla mente di una persona quando comincia ad ascoltare tante sessioni di ipnosi regressiva che siano ad personam o che siano investigative, perché piano piano comincia a comprendere la lingua dell'esoterico, comincia a comprendere tutto il meccanismo degli eventi che si riproducono sulla Terra nella dimensione fisica ma dalla prospettiva esoterica. Spero che un giorno tutti gli esseri umani possano aver imparato un'unica lingua che ci permette di comunicare tutti quanti insieme e capirci la lingua della consapevolezza.